Noi siamo liberi, liberi, liberi di volare, siamo liberi. Io ho vissuto un po' a pane Stati Uniti d'Europa, no? Chi stava con Pannella viveva questo. E allora Europa federalista, Europa democratica, Europa laica. Marco Pannella diceva stiamo attenti perché noi rischiamo di esportare la peste italiana in Europa, soprattutto sui temi della giustizia, soprattutto sui temi dei diritti umani fondamentali. Ecco perché c'è bisogno di una presenza di persone che a questi diritti umani fondamentali ci tengano e siano pronti a lottare, io dico anche con la non violenza, perché questi diritti possano affermarsi. Grazie. Noi siamo i soliti, sempre così, siamo gli inutili, fatti così. Noi siamo quelli delle occasioni, prese al volo come i piccioni. Noi siamo quelli che, vedete qui. Abbiamo frequentato delle pericolose abitudini e siamo ritornati sani e salvi, senza complicazioni. Noi siamo liberi, liberi, liberi di volare, siamo liberi, liberi, liberi di sbagliare. Siamo liberi, liberi, liberi di sbagliare. Siamo liberi, liberi di non ritornare. Noi siamo i soliti, quelli così.